Mario Vittorio, sono a Milano da tre anni quasi, sono una stylist e può essere un po' di più. Di Milano mi piace che comunque è una città che veda molti stimoli, è una città dove i ragazzi, insomma anche i miei coetane, hanno paura di osare e di fare cose diverse. Beh diciamo che mi baso molto sulla cultura per le 90's, mi piace molto la cultura grunge, un po' anche punk, anni 90, anni 80. Top 3 Designers, Raph, Eddie Slimane, Alaya, back in the day.